La squadra del liceo Maffei di Riva del Garda nei giorni scorsi si è qualificata per la finalissima delle Olimpiadi di Matematica a squadre in programma a maggio a Cesenatico, un traguardo importante conquistato al termine dei giochi di Archimede che si sono svolti a Trento alla presenza di 21 squadre provenienti da tutto il nord Italia. I magnifici 7 del liceo Maffei, guidati dalla professoressa Annalisa Pasqualetto, sono rimasti nelle prime posizioni per gran parte della gara fino a conquistare la seconda posizione per poi mantenerla e aggiudicarsi il lascia passare per la finalissima. La squadra del liceo è composta da Cesare Straffellini, Nicola Lombardi, Paolo Vivaldi, Alessandro Dossi, Andrea Zanin, Samuele Colò e Anna Pace.